buongiorno buon pomeriggio buon vlog flash vlog flash per farvi vedere quanto sono rincitrullita allora io sono abituata che con i cuscini normali una volta all'anno li buttavo in lavatrice li lavavo e che così si disinfettavano i cuscini non solo le federe ho avuto la malaugurata idea che ho messo in lavatrice non ci stavano tutti e due un cuscino della memory form all'aloe che mi erano stati regalati dalla viki l'anno scorso per il compleanno due anni no l'anno scorso per il compleanno ho detto ne metto prima uno dopo l'altro e li lavo tutti e due non lo fate mai non fate mai quello che ho fatto io perché mo giro la telecamera e vi faccio vedere cosa è venuto fuori del cuscino una volta tirato fuori dalla lavatrice fermi lì che ve lo faccio vedere ed ecco qua cosa è uscito dalla lavatrice l'ho aperto e perché sentivo qualcosa di rotto dentro l'ho aperto e praticamente c'è si sta tutto guardate si sta tutto sgretolando c'è lo tocchi si sgretola tutto guardate qua c'è ho avuto la malaugurata idea di lavare il cuscino in lavatrice non sapevo giuro che non si potesse lavare e e niente è da buttare via è completamente da buttare via non lo fate mai non fate mai la cazzata che ho fatto io di lavare il cuscino in memory for form from memory forma alla loe io credo che terrò tiro via questa tengo almeno la fodera che quella è buona e il contenuto lo devo buttare via grazie della gentile attenzione ciao grazie